buongiorno a tutti è il momento di sorteggiare il giocatore jolly e il giocatore taglia per quanto riguarda il Roland Garros tabellone numero 1 il tabellone maschile tabellone numero 2 il tabellone femminile vediamo cosa esce tabellone femminile quindi la giocatrice jolly sarà una donna vediamo un po' la riga di tabellone che uscirà numero 65 quindi la prima la prima la prima riga della parte bassa del tabellone femminile ed è la zeng la zeng è la giocatrice jolly per quanto riguarda il tabellone l'edizione 2024 del Roland Garros adesso procediamo ad impostare il programma in modo da avere il tabellone per quanto riguarda il giocatore o la giocatrice taglia vediamo e la taglia va sul tabellone maschile quindi il giocatore taglia sarà un una delle più uno delle prime quattro teste di serie maschili vediamo cosa cosa viene fuori uno gioco vici quindi sarà gioco vici il giocatore taglia per quanto riguarda il tabellone maschile del Roland Garros quindi ricapitolando zeng testa di serie numero 7 a parigi la giocatrice jolly il giocatore italia è novak giocovic ciao a tutti e alla prossima